La creazione di un tavolo operativo sulla mobilità, delegando a questo strumento tutte le iniziative concrete da porre in essere per dare risposte alle esigenze di lavoratori e fruitori, garantendo una maggiore efficacia dei trasporti pubblici. E' quanto proposto questa mattina dal sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, al termine dell'incontro avuto nella sede municipale di Via Carducci con i segretari regionali e provinciali dei sindacati dei trasporti, ponendo le basi per avviare una verifica delle problematiche dal livello regionale a quello locale. D'Alberto ha sintetizzato l'atteggiamento che assumerà l'amministrazione, senza puntare l'indice verso responsabilità dirette, ma sottolineando come sia mancato un governo reale del trasporto. Sono mancate per il primo cittadino le linee guida, limitandosi al mero affidamento del servizio, senza un'autentica attività di controllo che ne tutelasse modalità, efficienza e assistenza, sia dei lavoratori che dei fruitori. La principale esigenza espressa da parte di tutti gli attori è quella della sicurezza, sia in relazione ai mezzi che per quanto attiene le aree per gli utilizzatori, principalmente le pensiline. D'Alberto ha poi posto l'accento su alcune specifiche questioni da lui ritenute di primaria importanza, quali la necessità di rivedere la connessione tra il centro urbano e le aree periferiche e soprattutto i collegamenti con l'università. Il tavolo operativo della mobilità, che si riunirà per la prima volta martedì 9 aprile, del quale faranno parte i rappresentanti dei sindacati, il comune, rappresentanti degli studenti e dei cittadini, coinvolgerà di volta in volta le altre realtà istituzionali e le aziende stesse. Si tratterà di uno strumento operativo importante che favorirà una interlocuzione più forte con tutti i portatori di interesse, in primis la regione, ha commentato il sindaco, con la quale sarà necessario il più presto porre la questione del riequilibrio delle contribuzioni e soprattutto, conclude d'Alberto, l'ipotesi dell'introduzione anche nel nostro territorio del biglietto unico integrato.